Siamo qui con il segretario provinciale del PD, chi è arrivato qua si aspettava una conferenza stampa e magari anche un finale diverso per questa giornata politica algherese, cos'è successo? Io penso che in questa conferenza oggi siano state dette delle cose importanti, innanzitutto penso che nel finale io lo abbia rimarcato, il fatto che secondo me ci sono le condizioni perché il sindaco riveda la sua posizione e che possa comunque sia ritirare le dimissioni e continuare avanti in questa amministrazione, credo che anche il PD di Alghero abbia detto chiaramente che in questo momento non entrerà direttamente in giunta, però su alcuni aspetti e punti programmatici è pronto a dare il proprio contributo e il sostegno a questa amministrazione comunale. Quindi in pratica Mario Bruno ritirà le dimissioni e il PD darebbe un appoggio esterno? Questa è la sintesi anche che ha fatto il segretario cittadino, ripeto ci si confronterà e ci confronteremo sui punti programmatici. Mi auguro che Mario Bruno capisca lo sforzo che è stato fatto da parte di tutti, la richiesta che gli è pervenuta da parte della coalizione di rivedere e ripensare alle sue posizioni e quindi ritirare immediatamente le sue dimissioni. Siamo col segretario cittadino Mario Salis, alla fine avete fatto una conferenza stampa dove viene fuori chiara la linea del PD locale. Certo, la linea del PD locale che si mette a disposizione dal proprio punto di vista, cioè dal punto di vista di una minoranza in Consiglio Comunale, ma a disposizione della città, pronti a risolvere le problematiche più importanti, su quelle noi ci siamo, ci saremo, sulla soluzione di problemi veri, reali, i cui risultati si possano vedere nell'immediato. Basta non ci mettiamoci a lavorare perché la città necessita veramente di risposte, immediate tra l'altro. Quindi chi si aspettava un finale a Taralucevino decisamente non è stato servito? Beh, noi insomma rappresentiamo un partito che non so come debba dimostrare la propria serietà e il proprio modo di fare. Noi siamo a disposizione delle esigenze della nostra città, siamo qui per costruire, non siamo dei demolitori. Mimmo Pirisi, capogruppo del PD in Consiglio Comunale. Chi si aspettava un finale unito del PD con tutto il centro-sinistra in sostegno a Mario Bruno non è stato accontentato? No, diciamo che magari i tempi si sono allungati di qualche settimana, però la strada è quella, il percorso è quello e il PD farà tutto quello che si può fare per arrivare al ricongiungimento dell'intero centro-sinistra, dando l'apporto in questo momento programmatico, ma anche naturalmente per ottenere e per far passare tutte quelle documentazioni, quei punti che il segretario ha detto, faremo in modo che anche con i numeri si possa portare avanti quel percorso. Quindi diciamo che io sono fiducioso, anche soddisfatto, che quello che c'eravamo prefissi e che io personalmente mi lo prefisso, sta andando avanti, quindi per me va bene. Domani, domenica per chi ci guarda, è l'ultimo giorno perché il sindaco ritiri le dimissioni. Cosa succederà adesso? Credo che il sindaco possa ritirare le dimissioni già da oggi, senza aspettare domani. Credo che lo farà perché le parole dette dal segretario cittadino e anche dal segretario provinciale, ma anche le parole nostre, lo possono indurre in maniera precisa, in maniera seria a ritirare le dimissioni. Ci sono tutte le condizioni. In conclusione, ci si aspettava una conferenza stampa con molte più persone nel tavolo degli oratori, mai come oggi fanno rumore certe assenze. Qualche assenza è giustificata, qualche altra è stata un'assenza per lasciare spazio alla discussione degli organismi del partito, però diciamo che niente di grave. Quello che doveva venire fuori da questa conferenza stampa è che il Partito Democratico proseguirà e farà la sua parte per arrivare alla fine della legislatura con questa amministrazione. Grazie per la visione!